e insomma facciamo un po' costretti in questa macchina parlo in un cimitero e andate a prendermi una fila e tu uccidi il regga donna ti piace per lo meno? no! cosa faccio? uccidi in inglese mi piace qualcosa in inglese e insomma quale uccidi in inglese? albano! albano solo mi è rimasto ti piace albano? ma qual è albano? metti il ricofemiano che stai non mostro cosa faccio questo ricofemiano? devo metterlo al ricofemiano perchè ci ha dedicato la storia a quello stai a te mangiare per la pijama e sapote volevo darti il mio cuore un altro mio fianco una chiesa un altare l'altra donna mia che le si riportando stava a casa mia ma non faccio mango sento annamorata annamorata mia ma chi mi era vabbè ma non so chi io senza te non sa c'è sa il mio cuore con il tuo rossetto sarà la dedica di questa notte per me infame mi suona la storia da te ma sanato e basta questo ricofemiano se c'è un po' freddo la cosa è andata a rendere ma la macchina ma se io ci ha passato no ci ho deciso proprio faccio ma che te ti già fai tu sei sei sette otto mesi che stai andando e su tu sei chilo vena tu fai il giallo io ci ho dico faccia e faccia frate appena veca amore tu ci ho dico lo sfongo pure si parla ti ha pagato ma ti ha pagato ma a me questa macchina non mi piace no ma io lo tengo per fare i video c'è chi la papà mi ha preso ti capisco a me questa macchina non mi piace te le ha pagato appena faccio i soldi ma levo tu giuro faccio i soldi ma levo e tu che ci fai con questo ma che ragione e poi che fai con le mie sombrere ma ci dà meglio che papà ho pensato perché hai anche tre al pubblico non mi piace ma poi comunque i passetti il 14 febbraio un concerto mio e la Tata che punto? ti hai anche biglietti ma che dai? a quando si va? a quando si va? è un po' di 15 anni ma non c'è anche un po' di capire ma comunque appena ti vengono, io non giuro io io a giro in tasso, ma non lo fa, non lo fa, non lo fa appena vengono, appena vengono, appena vengono a me non si vengono, mi sono fanciato ma non c'è anche un po' di capire